Accessi in aumento nei pronto soccorso degli ospedali campani. Con le temperature torride registrate negli ultimi tre giorni, sono infatti cresciute le richieste di cura e ricoveri per patologie respiratorie e cardiache. Ad essere colpiti soprattutto gli over 70 nella rete dell'emergenza, a mancare continua ad essere il personale tra ferie da smaltire e mancato sblocco del turnover. Il pronto soccorso ad Avellino è in affanno da tempo. Le motivazioni sono tantissime, le abbiamo sviscerate. Quella principale è la carenza di personale e in questo periodo si aggiungono anche le giuste ferie del personale. Quindi chiaramente questo manderà ancora di più in affanno il pronto soccorso che è oberato maggiormente anche per il problema dell'emergenza caldo. Dal canto suo il presidente Sellitto spiega come il quadro dell'emergenza pronto soccorso sia generale in Campania. Se da noi è così, immaginate a Napoli che cosa succede, come viene amplificata la cosa, è ancora più disastrosa. Noi ci batteremo, ci batteremo col governatore perché al più presto si riesca a rimpinguare l'organico della sanità. Sono delle giornate eccezionali, di calore veramente eccezionale. Bisogna fare molta attenzione. Chi deve fare molta attenzione? Soprattutto le persone anziane. Le persone anziane e anche bambini molto piccoli. E poi ci sono tutte quelle persone a rischio, i cardiopatici, i broncopatici. Questi sono tutti soggetti che sarebbe il caso adottassero delle misure per evitare problemi. La prima cosa da fare è evitare le ore più calde. E poi le precauzioni classiche, bere molto, mangiare molta frutta e verdura. Queste sono le cose da rispettare. Queste sono le cose da rispettare.